Un inizio di 2023 nero per gli infortuni sul lavoro in Friuli Venezia Giulia in aumento rispetto all'anno precedente. Nel conto che vede più di 2000 denunce in tre mesi c'è purtroppo anche un decesso, quello di un operaio precipitato dal tetto della Bioman di Maniago a fine marzo. L'elenco degli infortuni però è lungo e così l'ANMI, la fronte di numeri da brivido lo scorso mese, riaccende le luci sul tema. Ci stiamo battendo per far sentire la nostra voce in quanto evidentemente la sensibilizzazione, la formazione che viene proposta e quindi quella che effettivamente viene scritta non è più sufficiente, bisogna cambiare rotta. Per quanto riguarda il totale degli infortuni registrati in regione, quindi ricordiamolo anno 2022, ce ne sono stati 16.789 e c'è stato purtroppo un incremento del 6,3% sull'anno precedente. Sono stati registrati ben 10 infortuni dall'esito mortale e sono state riconosciute 1.769 malattie professionali. Venendo al 2023 in questo momento siamo già a 2.293 denunce. La fascia d'età più colpita è quella dai 55 ai 59 anni. Dal primo di marzo abbiamo registrato 4 gravi infortuni di cui purtroppo uno mortale.